hola siamo sulla luna no stiamo andando al porto di punta giandia dove c'è il faro e siamo in una strada un po diciamo non asfaltata quindi un po dissestata ma fortunatamente senza senza le buche senza schifezzine varie e abbiamo visto un paesaggio bellissimo che dopo lo finiamo mentre torniamo indietro e facciamo anche le foto perché adesso non siamo abbastanza in alto per per fermarci qui dice parco naturale di giandia e via super di qua dobbiamo passare per di qua sì per il parco naturale stai leggermente un po più qua che non prendi il beh beh no ma basta che ti inclini solo puoi stare appoggiato e inclini la videocamera è che un bagai che lampeggia che chissà questo è che lampeggia si cosa gialla cosa gialla nel centro dello schermo e la batteria vabbè dopo finiamo col telefonino attenta qui è un attacco diverso rispetto rispetto al cellulare c'ha due sprucchi guarda totoro piano più in là se riesci per te giri piano piano adesso mentre mi giro io ma mare profumo di mare ma non sapevo io credo mica che fosse una cosa così pregosa ma non sapevo io C'è un po' qui fa? C'è un po' Vai a tutti sul bar, tu puoi? Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.